Noi ci affiliamo a Motorrad Club Italia che nasce nel 2012 come un'associazione di motociclisti che hanno in comune la passione sia per la moto e per la BMW in particolare. Quindi noi ci affiliamo a questo club e nasciamo proprio nella speranza di poter coltivare e di condividere le emozioni, quello che è il motto poi di Motorrad Club Italia, condividere le emozioni della moto e di fare giri in moto, di fare turismo in moto, di conoscere per fare anche cultura e non solo andare a zonzo esattamente per l'Italia. Ma anche per andare oltre confine perché ci sono nostri amici, nostri affiliati, nostri soci che hanno fatto viaggi anche al di fuori di quelli che sono i confini nazionali. Un pretesto anche per provare a promuovere questo territorio a livello turistico. La denominazione Riviera dei Cedri non a caso credo sia proprio indirizzata verso questo obiettivo. Esattamente, far conoscere sia la Riviera dei Cedri che è un'entità geografica ma non è politicamente riconosciuta come tale, però esiste, la Riviera dei Cedri c'è, il posto dove noi viviamo. Questo potrebbe essere un pretesto per, come dire, vendere la nostra immagine, farci conoscere al di fuori dei confini regionali e soprattutto perché ci sono ospiti che verranno da Milano, verranno dalla Puglia, verranno dalla Campania, anche se in Campania diciamo che siamo abbastanza conosciuti. Anche perché questo tipo di iniziative, diciamo così, raccoglie un turismo di nicchia e quello dei motociclisti forse è un tipo di turista che si sposta anche fuori stagione. Assolutamente sì, è proprio la destagionalizzazione del turismo, quello fatto con le moto, perché chi viaggia in moto viaggia nei periodi anche meno caldi dell'anno, come qualcuno ama dire, noi viaggiamo anche quando non c'è il sole, usciamo in moto anche quando non c'è il sole. Quindi per noi è importante farci conoscere, questo è un mezzo perché i motociclisti girano, è Motorrad Club Italia, con i suoi club proprio questo fa, organizza tour in moto, infatti poi dal nostro sito, che ci sarà un sito dedicato a noi, come c'è per altri club affiliati a Motorrad Club Italia, noi usciremo con una serie di tour che faremo, così come gli altri hanno programmato i tour nella nostra zona.